Da Terramano un commento sul Terramo Calcio? Questo Terramo mi è dispiaciuto tanto, essendo Terramano, però io penso che la legge non è uguale per tutti. Sinceramente per noi in questa città sarebbe stato qualcosa di molto importante, secondo me è stato guadagnato sul campo, con una squadra che sul campo ha dimostrato di 24 risultati positivi, una coppia d'attacco la più importante di tutti i campionati. Penso che ora la città si debba avvicinare alla squadra, alla società, sostenerla, anche le nostre forze politiche, magari coinvolgere anche altri imprenditori e ripartire a questo punto, ripartire al meglio e cercare di fare un buon campionato e di riprendercela questa Serie B sul campo. Certo, le aspettative erano diverse, i danni sono notevoli per la città, per l'indotto, l'economia. Bisogna adesso vedere che cosa vorrà fare Campitelli, ma penso e spero che ripartirà e poi bisogna vedere i giocatori. Queste cose hanno privato una città, non è tanto privare la città di un qualcosa che è la Serie B, ma anche gli sberleffi che hai subito nelle varie parti d'Italia, qui vicino, da Giulianova, da Ascoli. Cioè le cose che uno deve essere preso in giro per degli errori fatti da qualcuno, delle stupidaggini gravi fatti da qualcuno. A me, come tifoso, non mi sta bene. Tutto qui. Adesso se rifanno la società speriamo che entrino persone nuove e Campitelli può anche starci. Se ci vuole stare, se ne va, a me non interessa, a me interessa il telo. Dispiace perché la città ci credeva, ci ha creduto, ci continua a credere. Infatti ho letto parecchi commenti dei tifosi deramani che dobbiamo essere più forti di prima e conquistarle un'altra volta. Vabbè, dimostreremo che nel prossimo campionato torneremo a essere vincenti di nuovo. Per questa sentenza diretta al Teramo Calcio c'è più rabbia o delusione? Delusione sicuramente perché purtroppo nel calcio quelle cose esistono, sono sempre esistite. La verità purtroppo contanna il Teramo. Dispiace perché il Teramo sul campo la Serie B l'aveva meritata perché Teramo ha espresso un calcio ottimo, meritava di stare in Serie B. C'è tristezza per come molto probabilmente siamo stati trattati a livello processuale. C'è rabbia perché chiaramente abbiamo perso una cosa acquisita da quei ragazzi fantastici, dallo staff tecnico e dai tantissimi tifosi accorsi soprattutto nell'ultimo periodo. E quindi una cosa, un sogno che svanisce. Prevalentemente la rabbia verso chi è? La rabbia è molto probabilmente da parte di qualche componente della società che secondo me non ha avuto un comportamento lineare. E soprattutto la rabbia da parte di tutti i tifosi che chiaramente si sentono privati di un qualcosa conquistato con grande entusiasmo, con quella grande festa che c'è stata e che adesso viene annullata amaramente.